Alfa Romeo 1.6 Spyder del 1966 è la prima serie di un fortunatissimo modello costruito in quattro serie fino al 1994. È conosciuta nel mondo come Duetto. Questo nome fu scelto tra più di 140.000 partecipanti a un concorso indetto proprio dall'Alfa Romeo. Il vincitore Guido Baldo Trionfi ricevete una nuova fiammante 1.6 Spyder bianca. La presentazione della vettura è faraonica. L'Alfa Romeo imbarca la vettura su una nave, la Raffaello, diretta a New York dove allestiscono anche una piccola pista di prova. Il pilota collaudatore dell'Alfa Romeo, Gonsalvo Sanesi, farà provare la vettura ad attori, registi e personaggi durante una sosta a Cannes proprio in occasione del Festival del Cinema. La 1.6 Spyder ottiene un seguito mediatico internazionale di grande impatto e lo sbarco nel mercato statunitense è un grandissimo successo. La duetto, nome che non fu mai ufficializzato, è capace ancora oggi di colpire come allora i cuori degli appassionati. Grazie a tutti!